Allora ragazzi bentornati all'angolo dell'unboxing, questa volta giochiamo, anzi guardiamo, leggiamo il numero di The Games Machine che ho comprato poco, che ho comprato in realtà oggi stesso quando sto registrando questa puntata perché pochi giorni fa ho fatto la puntata dove parlavo del declino delle edicole e non potevo certo lasciarvi in sospeso con un finale triste di me che non avevo trovato Games Machine in edicola quindi sono andato a un'altra edicola vicino a casa di mio padre e ho trovato un numero di The Games Machine, eccolo qui, questo è il numero 390 che in realtà non è il numero di maggio perché il numero di maggio esce il 15 e adesso sto registrando questa puntata il 13 quindi fra due giorni uscirà il numero nuovo è stranamente Games Machine esce a metà mese invece di uscire all'inizio del mese o alla fine del mese prima, esce a metà mese, non so perché fanno sta cosa comunque ok questo è il numero di aprile quindi 2022, guarda caso in copertina c'è là 500 mini, incredibile, un mito che ritorna dagli albori di TGM infatti sembra uno dei primi numeri di TGM questo perché c'è l'amica in copertina come a bei vecchi tempi nell'88, 87, in realtà il primo numero di Games Machine italiano mi pare che uscì fine 87, inizio 88 mi pare, era quello con la copertina bellissima di Oliver Frey dove c'era il re degli scacchi o delle carte anche che c'aveva una pistola laser era un re in versione futuristica, bellissimo e in pratica questo qui, questo qui è il penultimo, non l'ultimo numero ma il penultimo numero sono finalmente riuscito a trovare questa rivista nell'edicola vicino a casa di mio padre che era un po' più fornita di quella vicino da me però anche lì si vedeva chiaramente il fatto che le edicole sono in forte declino, sì è vero che lì c'aveva Dylan Dog regolare, l'ultimo numero di Dylan Dog regolare ma ce n'aveva tipo uno solo e poi c'aveva Dylan Dog Oldboy che ce l'aveva anche l'altra cosa e poi ho visto meglio insomma che Dylan Dog Oldboy in realtà è il Dylan Dog classico che hanno rifatto per accontentare i fan del Dylan Dog quello normale perché il Dylan Dog quello nuovo è stato storpiato da Roberto Recchioni che l'ha trasformato tipo in uno con la barba con Gnaghi che l'ha preso di peso dal romanzo della morte e dell'amore di Sclavia anche dal film ovviamente di Michele Soavi se non erro l'era il film con Rupert Everett e con Anna Falchi il film poi non era male in realtà anche se quel film venne blastato tantissimo dai critici all'epoca in realtà secondo me non era male come film comunque ok basta comunque in breve le edicole sono effettivamente in declino anche se in queste edicole leggermente più fornite sono riuscito a trovare Games Machine ce n'erano due copie ok probabilmente lui ne aveva prese tre e una l'ha venduta e altre due gli sono rimaste sul gruppone e tra un po' fa il cambio con numero nuovo c'era anche un'altra rivista che però non era di videogiochi ma era di giochi da tavolo ma non ricordo il titolo allora eccolo qua Games Machine 5 euro e 90 si parte con lo strillo dell'A500 Mini andiamo a vedere che qui ovviamente c'è la campagna abbonamenti su cui loro fanno affidamento perché nell'edicolo ormai si vende poco allora qui c'è il sommario e qua ci sono immediatamente le news come i bei vecchi tempi che inizialmente nelle prime pagine mettono le news le news in breve ci sono anche le news in breve noi le mettevamo su un trafiletto a lato ma forse anche loro dico noi perché perché io una decina di anni fa 10-12 anni fa io dirigevo una rivista cartacee poi ve ne farò vedere un alla fine di questa puntata ve ne farò vedere un attimo un glimpse diciamo una breve un breve pezzettino allora queste sono tutte le news ma noi poco interessano perché ci interessano più che altro la roba retro gaming unica cosa che voglio sottolineare è questo articolo dove parlano dei people can fly che sono quelli che fecero appunto qua si vede dalla foto il mitico bullet storm che è un gioco solamente di culto ovviamente fecero anche painkiller eccolo qua bellissimo e qua generalmente parlano brevemente della carriera dei people can fly ecco eccolo qua amica per sempre l'hanno voluto chiamare sta articolo come l'amica forever della della raccolta della gloanto ok questa è l'amica però hanno fatto una già nella prima stupidata perché hanno messo una foto non dell'amica 500 che ci avevo io ma della 500 plus che la versione quella dopo che purtroppo era meno compatibile della prima versione perché c'era il warbench cioè c'aveva il kickstart 2.0 quindi c'erano problemi di compatibilità l'amico mio che ce l'aveva se doveste far fare il dischetto col kickstart vecchio 1.3 un casino ragazzi allora qua c'è la palla boeing eccola qua di cui abbiamo ampiamente parlato sia nell'unboxing della 500 mini che anche nella puntata quella speciale del gioco fuse player per nintendo wii no per nintendo switch eccolo qua e in pratica qua c'è l'amica mille che era il predecessore dell'amica 500 ok che doveva essere più un computer più dal tipo da lavoro lo presentò Andy Warhol roba grossa qua ci stanno alcuni dei giochi più significativi poi abbiamo eye of the beholder il primo battle of the movie della ocean bellissima sezione di guida guardate che roba fantastica e poi defender of the ground ovviamente che ci giocheremo a breve sulla 500 mini e poi qua c'è il came from the desert qua c'è il pint e qua c'è la demo del boeing ok qui ci abbiamo niente altre robe qua l'amica questo è il 600 no? questa si è la no questa è l'amica ah questa è l'amica 1200 non l'ho riconosciuta perché è deformata eccola qua l'amica 1200 che ce l'ho anche l'avete vista nella cantina infernale questi sono alcuni dei giochi inclusi nella 500 mini eccoli che già abbiamo visto brevemente qua ok e qua tra poco si parlerà ancora della 500 mini più avanti quindi non mi lasciate qua c'è un breve articolo che parla della nft compreresse un nft da quest'uomo e qua c'è anche scritto nft e blockchain ecco cosa ne pensiamo in breve cosa ne penso io che è una speculazione sul nulla le bitcoin negli ultimi negli ultimi mesi sono crollate a picco le bitcoin e gli nft subiranno lo stesso destino perché perché gli nft ancora più delle bitcoin è una speculazione basata sul nulla quindi non c'è un collegamento con l'economia reale quindi la sua il suo destino esplodere una bolla è una bolla speculativa che il suo destino esplodere quindi vi fate fregare non farti truffare dice qua vi fate fregare comprando l'anft va bene adesso spendete dei soldi magari qualche soldino lo fate rivendendoli a prezzo maggiorato se ci riuscite ma tanto molti non ci riescono gli rimangono sul gruppone e alla fine rimanete fregati con roba che non vale niente non conta niente non esiste perché è solo virtuale e alla fine rimanete con un pugno di mosca in mano allora qui mettono sta foto qui che è la famosa foto del meme della bambina che vede la casa bruciare e sorride sommessamente con aria diabolica come se fosse stata lei ad appiccare l'incendio e scrivono anche i meme sono diventati dell'nft quello è il mio sguardo quando la bolla scoppierà che è esattamente quello che penso io sull'argomento nft ma anche criptovalute ok andiamo avanti qua altre preview qua vedo un mario odyssey così selvatico messo in mezzo non so perché la via del samurai il gioco track to yomi bellissimo che deve uscire basato sui film di i bellissimi film di non mi viene in mente raga si di akira kurosawa mi è venuto in mente grande regista giapponese che ha fatto parecchi film molto belli tra cui anche alcuni di samurai soprattutto ok poi tipo c'era quello la come si chiamava i sette samurai poi c'era quell'altro che era kutoshiro mifune poi c'era quell'altro in bianco e nero bellissimo della storia che cambiava a seconda di chi la raccontava però non mi ricordo il titolo quello era il capolavoro suo praticamente ragazzi non mi ricordo il titolo se ve lo ricordate mettetemelo nei commenti perché sto rincoglionito lo sapete la mia memoria spesso fallisce la mia memoria spesso c'ha dei problemi c'ho dei vuoti di memoria incredibili qua il nuovo siberia ok che sembra molto interessante poi andiamo avanti ci abbiamo ok questo qui tintini di nas wonderland no spin off di borderlands versione fantasy questo cos'è final fantasy origin ecco allora andiamo andiamo al bello che è il l'inserto retro tgm che somiglia un po' ricordate l'inserto di zap negli ultimi numeri di zap era diventato un inserto che stava dentro il tgm questa è una cosa simile hanno fatto un inserto retro tgm dove parlano dei retro game anche questa è una cosa che noi all'epoca facevamo nella nostra rivista free press a fine puntata ve la farò vedere brevemente allora questo qui è il la 500 mini ovviamente anche qui dedicano tutto uno specialone alla 500 mini eccolo qua l'unboxing il menu il pad il mouse e quali negli imperdibili hanno messo realtà tutti i giochi che sono inclusi all'interno della dei 25 inclusi all'interno della 500 mini però in realtà gli imperdibili sono anche altri tipo monkey island non c'è invece ci hanno messo come gli imperdibili i giochi inclusi ma in realtà avrebbero dovuto mettere i giochi realmente imperdibili perché alcuni come abbiamo detto sono delle come si dice dei palliativi per altri tipo perché hanno messo zule non hanno messo super frog che è superiore oppure ce ne sta pure un altro che è superiore secondo me pure niki baum è superiore a super frog però ok per chi hanno messo kickoff 2 non hanno messo sensible soccer sempre per una questione di diritti già ne abbiamo parlato questo quando ho fatto la prova su strada della 500 mini diverse settimane fa per la c'è tex special edition ci rigiocheremo a questo bisogno di ho bisogno di rigiocarci per vedere se effettivamente era un gioco infame come me lo ricordo oppure sarà più bello di come me lo ricordo secondo the sorcerer questo qui era il palliativo di monkey island di sì in realtà non è così però diciamo che nella raccolta dei 25 giochi visto che non hanno potuto prendere i diritti dei giochi lucas hanno messo questo come al posto di monkey island praticamente world director cat ecco fanno uno speciale dove parlano di un gioco non incluso che è with kid with kid della sensible software gioco fighissimo questo qua più avanti ne parleremo seguito di with ball classico per commodore 64 di cui abbiamo già parlato bellissimo with kid poi c'è un nostro amico che sta facendo tutto lo speciale che lo sta giocando finendo il nostro amico è sacco blenda del canale mi racconti un gioco bello se volete andatevelo a vedere sta finendo questo gioco sul suo canale fantastico poi allora red audio questi sono nuovi giochi in stile retro gaming che stanno uscendo sulle vecchie piattaforme tipo c'abbiamo gun smoke una nuova conversione di gas maga smog per amica poi ci abbiamo dread ci abbiamo invia 2 che somia stranamente a uno dei miei sparatutto preferiti su amica che è disposable heroes poi ci abbiamo turigan 2 aga versione nuova aga del medico turigan 2 della rainbow arts poi ci abbiamo metro siege che è un picchiaduro che non cioè è anche molto colorato però boh dalla foto non mi sembra promettere benissimo mi ricorda cose brutte tipo il picchiaduro di last action hero oppure d'angelo street della flare software che era una vera schifezza poi qua parlano di smackdown c'è sa the rock e contro john cena vabbè non ci frega niente noi c'è sa ray misterio fantastico poi ok altri giochi altri giochi andiamo avanti veloce da sinito non ci frega niente guerrieri sinasciano se poi magari wild wild 2 non ci frega niente questa roba andiamo a vedere platonine games che fallisce ecco chi ha rotto il multivale ah le review il titolo lo mettono in alto a destra del gioco non fanno come ai tempi di tgm dove mettono il titolo grosso qua qua ci mettono il sotto praticamente il titolo dell'articolo non corrisponde più al titolo del gioco questa è una cosa che è cambiata rispetto ai vecchi tgm e rispetto ai zap che sono più mitici non ci sono i commenti multipli quindi era meglio zap diciamo di tgm secondo me poi rise in the lusso qua che gioco è gran turismo 7 kirby la terra perduta come vedete parlano anche di giochi per console non solo per pc adesso triangostare somia molto lo schema a quello di game republic che era anche simile allo schema che utilizziamo noi nella nostra rivista free press che tra poco ve la faccio vedere ok qua recensioni in breve poi secondo la parte dello speciale stanchei dove parlano anche di di cari warios versione nes gioco che venne preso per conversione che venne presa per il culo anche dall'angry videogame nerd dove con l'amico suo mike mattei e con l'altro tipo strimpellatore dicevano che praticamente le torrette e anche i cararmadini somigliano a dei però senza peli c'era quello che cantava le canzoni diceva where did the hairs go dove sono andati i peli diceva la canzone si ammazzano dalle risate goliardicamente ma noi sentiamo un velo pietoso allora meta slug allora bellissimo non so se perché ecco si ci hanno messo sta specie di splash su tutta la pagina la locandina di meta slug forse è una cosa che fanno spesso non lo so perché io ormai sono anni che non compro di gm quindi non so qua tutti i giochi più recenti della snk questo era per neo j pocket io ce l'avevo un gioco c'avevo un king of fighters così della snk per neo j pocket che era bellissimo ragazzi poi rocket ranger per amiga dell'88 bellissimo questo è l'intro quadro fit questo gioco poi ci giocheremo prima o poi come defender of the ground anche questo gioco qui alternava fasi più strategiche a fasi più action o cinematiche ed era proprio dava proprio l'aspetto di essere un film interattivo ma non per questo meno profondo di altri giochi ok poi qua il tecno dgm parlano dei processori roba vera c'è frega niente poi vari periferiche pure qua c'è frega niente è tornato bovabyte eccolo qua bovabyte perché giustamente essendoci paolo besser ha fatto tornare bovabyte però dave mi sa che non c'è non lo so se l'ha richiamato però mi sa che non c'è poi me la leggo con calma comunque voglio dire nel 2022 ancora bovabyte è bene sì perché comunque da un po' di leggerezza non guasta mai vabbè poi virtual reality machine qua parlano un po' di novità della realtà virtuale ovviamente parlano di realtà virtuale principalmente quella su pc non quella che uso io della playstation che è la realtà virtuale un po' economica diciamo è quella che posso permettere che devo fare o gioco così in virtuale non c'è gioco meglio di niente comunque un'esperienza particolare allora poi quel gioco di prima del multiverse e niente è finita è finita la rivista ragazzi allora rivista bella il prezzo il prezzo giusto diciamo 5,90 euro contando che adesso tutte le riviste costano tanto 5,90 euro per una rivista così di nicchia e di settore ci può stare mi è piaciuta la rivista e adesso vi faccio vedere un pezzetto di rivista mia dell'epoca così vi faccio vedere perché anche noi avevamo tutta una lunga sezione retro gaming dei grossi speciali su retro gaming sulle retrospettive faccio vedere un pezzetto ma poco poco perché poi ci dedicherò una puntata torno subito allora al momento non trovo la cartellina dove ho messo dentro tutti i numeri cartacei che avevo della nostra rivista che sono più di 20 numeri ne uscirono tipo 24, 25 non mi ricordo e questo qui è uno degli ultimi numeri questo era il numero numero 21 che c'era il gioco dei Ghostbusters quando uscì per Xbox 360 e PlayStation 3 io in questo periodo dirigevo la rivista e ero anche il grafico facevo anche la grafica quindi questa è tutta farina del mio sacco sta roba e in un altro numero non in questo vi faccio vedere c'era questo mio speciale su Paul Norman ok? Hazard Challenge vedete guardate che roba ovviamente non vi faccio vi faccio vedere solo qualche qualche glimpse qualche piccola cosa d'esta rivista ok? non vi faccio vedere tutto perché non ve la spoiler perché poi ve la farò vedere proprio in versione cartacea c'era anche uno speciale su Don Bluth su Dragon Slayer molto bello che adesso non trovo qua guardate il faccione di Paul Norman guardate che figata ok? questo era il clone Amazon Warrior ok? parlavo pure di queste cose bellissimo allora ragazzi per questa volta è tutto prossimamente vi farò vedere anche dei numeri della mia rivista che all'epoca pubblicavamo era una rivista Free Free Press che era gratuita ok? sì era liberamente distribuibile e c'erano sia ovviamente la versione cartacea che i pdf io ero redattore caporedattore grafico tutto facendo sì nella redazione eravamo una decina di persone comunque vabbè ragazzi per questa volta è tutto noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi alla prossima per questa volta è tutto noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi alla prossima